Ehi, ciao, che coincidenza trovarci entrambi qui nel tuo cervello, grazie di avermi lasciato entrare non va da tempo che aspettavo di farmi un giro qui dentro credo che starò qui un po' di tempo, almeno finché non ti addormenti quindi spero che sarà un soggiorno piacevole per entrambi per adesso mi sto trovando bene e spero anche tu cercherò di essere super delicata senza andare a interferire con l'attività tua cerebrale o almeno sono contenta se riesco a rallentare un po' il flusso dei pensieri credo che tu abbia un bellissimo cervello anche se c'è un po' di caos e devo dire che hai anche delle belle orecchie io mi sono fatta piccola, piccola, piccola e sono entrata da un orecchio passando dal padiglione auricolare ammirando il tuo canale uditivo poi ho incontrato la catena degli ossigeni degli ossigeni degli ossigeni 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 ovvero prima c'era il martello poi l'incudine e poi la staffa poi dopo la catena ho incontrato la finestra ovale che era molto molto bella guardando in alto ho visto i canali semicircolari ho visto l'osso temporale e infine il nervo uditivo devo dire che entrambe le tue orecchie sono molto sane non so se ce n'è una che preferisco perché sono entrambe perché sono entrambe molto 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 quindi grazie ancora per avermi lasciato entrare e arrivare al tuo cervello al tuo magnifico cervello e credo che farò un giro sia nell'emisfero sinistro che nell'emisfero destro io credo di avere quello destro sviluppato perché sono molto creativa e seguo spesso il mio intuito mi piacciono i colori, i colori accesi, mi piace molto la musica e tendo ad avere una visione d'insieme sono anche molto 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 sensibile però al tempo stesso a volte mi sento separata da me stessa e questo è caratteristico dell'emisfero sinistro facendo un occhio al tuo cervello mi sembra che entrambi gli emisferi siano abbastanza equilibrati equilibrati vedo che ci sono tanti pensieri belli qui nella tua testa anche se qualche pensiero un po' più brutto lo vedo lo vedi anche tu lo so lo vediamo entrambi e lo lasciamo lì perché adesso a noi interessa concentrarci su ciò che ci fa sentire bene quindi adesso cerchiamo di espandere queste vibrazioni positive focalizzati su qualcosa che ti rende felice qualcosa che ti provoca una bella sensazione di calore in mezzo al petto ci penso anch'io assieme a te ok ok al mio dieci pensiamo a tutte e tutte e tutte le cose che in questo momento ti fanno sentire bene intanto respiro un po' che se non svenco al mio dieci al mio dieci due tre lnsi tre 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 厘 tre otto nove dieci ho pensato al mio cane che si chiama mango poi ho pensato al cibo buono poi ho pensato alle belle giornate d'autunno che stiamo vivendo tutti i colori che ci sono giallo ragione rosso marrone poi ho pensato al cioccolato quanto è buono il cioccolato poi ho pensato a quando mi metto a letto la sera sotto le coperte e accendo qualche candela e sprofondo nel letto sprofondo nel letto sprofondo nel letto poi ho pensato poi ho pensato a un bel bagno caldo con qualche aroma di olio essenziale alla schiuma che creo tanto tanto schiuma 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 anche tu, pensavo alla sabbia calda, l'estate, sotto i piedi, che bella sensazione, non troppo calda che se non scotta, la sabbia delle cinque del pomeriggio, per la tiepida, che veramente dissipa ogni preoccupazione, ogni pensiero ossessivo. E adesso mi sento bene, dopo aver pensato a queste cose, e vedo che anche tu ti senti bene. Il flusso di pensiero negativo si è fermato, e resterò ancora un po' finché proprio, proprio, proprio non ce la fai più. E poi uscirò dall'altro orecchio, puoi immaginarmi come un piccolo, 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 insetto, che è entrato nel tuo cervello, e che osserva, e ti rilassa, ti rilassa, ti rilassa. Forse non è l'immagine migliore che potevo creare, ma è la prima che mi è venuta. Sono un insetto carino almeno, spero. E adesso faccio un piccolo giro per il tuo cervello, partendo da sotto, vedo il cervelletto, poi passo al lobo parietale, lobo parietale, lobo parietale, lobo parietale, poi passo alla corteccia somatosensoriale, corteccia somatosensoriale, che bella che è la corteccia somatosensoriale, e poi vedo il sorgo, il sorgo centrale, sorgo centrale, sorgo centrale, sorgo centrale, sorgo centrale. e andando avanti, arrivo alla corteccia motore, la corteccia motore, e poi giù abbiamo il lobo frontale, e infine lobo frontale, e infine completiamo il giro con il lobo temporale mi è piaciuto fare questo giretto e se ti stai chiedendo se per caso devo preparare un esame di anatomia no queste cose non le ricordo dall'adrennale anche se un po' di cose sono dovuta andare a ripassarle così non facevo brutta figura una cosa che mi dà fastidio è fare le cose fatte male o sembrare impreparate tendo a pretendere molto da me stessa che se ultimamente cerco di essere più gentile con me stessa e ti esorto a fare lo stesso i miei polmoni mi stanno odiando in questo momento che sto trattenendo il luigiato troppo 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 però questi suoni con la bocca questi mouth sounds troppo siano estremamente rilassanti e in realtà non mi piacevano tanto fino a qualche tempo fa fino a qualche tempo fa poi sono capitata su un video non mi ricordo di che e faceva appunto i mouth sounds e mi hanno fatto venire un sacco di breviti un sacco di breviti tra l'altro ho anche portato delle gomme da masticare che qui in Piemonte chiamiamo chicles 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 trovo sia molto bello la masticazione lenta quella veloce mi mette un po' di ansia comunque mi sono stinta a capelli ho deciso di tornare del mio colore e devo dire che strano perché da quando avevo 14 anni mi sono sempre tinta chiara rossa bianca e quindi è stato un cambiamento abbastanza grande per me però mi hanno detto però mi hanno detto che sembro più matura così senti come rimbomba questo suono nella tua testa nella tua testa magari hai dei priviti che scendono lungo la schiena a me di solito non si concentrano nella zona nella zona lombare ho portato anche luce da labbra per accentuare i suoni che i sono che sono escono dei suoni strani, penso sia la gola so, 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 so Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c spero che ci rivedremo presto qui mi piacerebbe tornare qui e adesso voglio che rimani in questo stato di rilassamento, ok? il tuo cervello ormai è calmo quindi sono sicura che dormirai bene vedrai ti ringrazio ancora dell'ospitalità e se vorrai ci rivedremo presto buona notte 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 buona notte, buona notte, buona notte, buona notte, buona notte, buona notte Grazie.